signore e signori noi siamo i Kailin Spa i ubicini in un ultimo pezzo in un ultimo pezzo in un ultimo pezzo in un ultimo pezzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore e signori, noi siamo i Kelly Sports! Ci aspettavamo molto di più! Riproviamo! Signore e signori, noi siamo i Kelly Sports! Grazie! Grazie! Grazie a tutti!